Antonio Sorgi, da ieri, per tutti coloro che hanno avuto la possibilità di seguire la vicenda, sarà il Re Sole. Certo, il paragone con Luigi XIV, re di Francia a cavallo tra il 1600 e il 1700, che è stato uno dei regnanti più longevi che siano mai esistiti, è alquanto ardito. Re Sole perché il suo regno era splendente, la Francia è il centro di tutto, era amato dal popolo e faceva del bene, anche se amava circondarsi di bellezza e lusso. Le carte dell'inchiesta fanno passare Antonio Sorgi come il Re Sole solo perché tutto, magari, girava intorno a lui. Certo è che l'Abruzzo ancora una volta è al centro di inchieste giudiziarie, che vedrebbero appalti truccati, mazzette, deliri di onnipotenza e imbrogli di vario genere. Due gli arrestati ai domiciliari, più altri indagati, figure minori per carità ma che avrebbero le loro responsabilità. L'immagine che ne viene fuori dell'Abruzzo è ancora una volta pessima. Siamo diventati in questi ultimi anni una regione di mazzettari, corrotti e corruttori, dove politici e dirigenti farebbero del potere una gestione personalistica e tesa esclusivamente all'interesse personale e non della comunità. Basti ricordare quello che è accaduto negli ultimi vent'anni, tra inchieste giudiziarie e scandali politici, a partire dal 1992 con l'arresto di un'intera giunta regionale, quella Salini. Come sono andate a finire le cose poi, è noto a tutti. Bolle di sapone che però hanno messo l'Abruzzo in difficoltà a livello di immagine. E poi Sanitopoli, Rimborsopoli, Rifiutopoli ed ora anche Cimiteropoli. Insomma, una serie di opoli che non ci fanno onore. Certo, abbiamo una magistratura intraprendente, non ci sono dubbi, ma siamo così sicuri che siamo poi tutti così corrotti o corruttibili. Come stride tutto questo con la nomina di Giovanni Legnini alla vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Per fortuna che il riscatto di una regione passa anche attraverso queste cose. E per fortuna che oggi ci sentiamo tutti un po' più legnini che sorgi, almeno per queste giornate.